Ciao a tutti ragazzi, voglio ringraziare lo stato di Music OV e l'adattario per il premio del contest di Ski My Bag e questo è il premio, andiamo a vedere cosa c'è dentro Ok, cominciamo a vedere cosa c'è dentro Prima tasca Capodasco Oh 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 Tata Capodora Bello questo, capodora Slide Prodotti per la pizia Prodotti per la pizia Prodotti per la pizia Conte Poi, faiato da sto strattino, qui su. Vedete che può bastare? Ok, di nuovo il ringraziamento a tutto lo staff di Buffett e Dario. Grazie mille, ci vediamo presto.